Bella raga, come state? Allora, allora Enzo Dong è tornato dopo un po' che mancava Rapper che a me piace molto e secondo me anche un po' sottovalutato Allora, oggi andiamo a vederci un bel freestyle Che è un plug-in con Fumes The Engineer Quindi sono stra-curioso, speriamo che abbia spaccato E sia anche il preludio magari di un album o di un nuovo singolo Quindi andiamo subito a vedercelo Vediamo cosa ha combinato Enzo Dong Quella Cosa è che ha detto? Ascolti Blanco e la Madame e fai il finto alternativo Che sia un dissing Pesante Wow 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 C'è Fumes che mi sa che non sta capendo un cazzo Così a vedere dalla faccia Wow Pesantissima Grande Comunque devo fare un appunto Cioè il mic e io lo potevano mettere un po' più basso Wow 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 Resto al potere come Putin Pesante che questa Mamma mia Tanta roba Tanta roba raga Tantissima roba Poi Poi Tutto drill Quindi ci sta Ci sta raga Wow 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 Oh raga Secondo me Secondo me è un ritorno in grande stile Ha spaccato Ci sono un po' di passaggi interessanti E Non mi è piaciuto L'ultimo pezzo con l'autotune Però tutto il resto Mi ha preso Mi ha fatto muovere Muovere il collo Quindi questo era l'intento del freestyle Però ci sono anche delle rime interessanti Che sarebbero da rivedere Comunque raga Fatemi sapere cosa ne pensate di Enzo Dong Se questo ritorno ci sta Se avete delle opinioni Mi raccomando ci tengo tantissimo Scrivetele sotto nei commenti E Grazie mille raga Iscrivetevi al canale Come sempre per supportarmi E Alla prossima Bella raga